Buonasera ragazzoni, benvenuti o bentornati in questo nuovo TG Crime presentato da una Bugamelli tutta rapata. Ebbene sì, ho la metà dei capelli che avevo prima, ma non sono tanto più corti, però finalmente mi sono liberata dalla zavorra del super mega capello pesante che c'avevo. Ho trovato finalmente una parrucchiera italiana, che bello, bravissima, che mi ha fatto questo taglio stupendo, che tra l'altro dovrebbe tenermi buono anche quando crescono di più. Non me la ricordo benissimo l'intervista, ma diceva delle cose che non avevano senso, e poi dico, ciao... Era super sbronzo, no? Iniziamo con la storia di Manuel Millefanti, una storia veramente tragica, che è ancora, diciamo, per un verso avvolta nel mistero, ma per lo più si è dipanato questo mistero. Nella notte tra domenica 21 gennaio e lunedì 22 di gennaio, il povero Manuel perde la vita, vittima di un omicidio sanguinosissimo, nella sua casa a Oltrona di San Mamette. Non avevo mai sentito questo paese, immagino che non sia tanto grande, però Oltrona di San Mamette, provincia di Como. Comaschi, lo sapete, io vi rispetto, Como, non dite più Como. Loro dicono Como, allora bisogna dire Como. Comunque, la vittima appunto, Manuel Millefanti, aveva 43 anni e viveva da solo a pochi metri dai suoi genitori. Era andato a vivere da solo, però, insomma, era proprio lì vicino ai suoi. E quella notte Manuel è stato aggredito, è stato accoltellato al petto, tra l'altro nella parte sinistra vicinissimo al cuore, ed è però riuscito a chiamare la mamma. Lui è riuscito, insomma, ad accedere al suo cellulare e a chiamare sua mamma, che è stata svegliata nel cuore della notte, erano circa le quattro, passate da poco, e ha detto soltanto, mamma aiutami, mi hanno accoltellato. Quindi la mamma lo corsa immediatamente a casa di suo figlio e tra l'altro ha trovato il cancello aperto, la porta di casa aperta, fortunatamente anche, perché effettivamente, a meno che lei non avesse le chiavi, poi lui non era, era impossibilitato ad aprirla, quindi si è affiondata dentro, ma quando è arrivata a casa del figlio lo ha trovato a terra nel salotto, completamente ricoperto di sangue, in un lago di sangue, con una profondissima ferita da taglio al petto, una coltellata al petto, pura, infatti. Quindi lei ha chiamato poi subito i soccorsi, ma purtroppo quando sono arrivati non c'era più niente da fare. In realtà, già quando è arrivata la mamma sul posto, ormai il povero Manuel era già deceduto. Ha avuto giusto il tempo di fare la telefonata e poi, poverino, è morto. Manuel in passato ha avuto qualche precedente per reati legati allo spaccio di droga, niente di incredibile, insomma, piccoli reati, ma comunque legati allo spaccio. E si pensa che potrebbe essere questo il movente dell'assassino. Mentre stava morendo, e adesso qua è arrivato il momento del coglione, no? Cioè, lui, poverino, ci ha perso la vita. Ma l'assassino è stato beccato perché è un coglione. Mentre era al telefono, quando lui ha detto, mamma aiutami, mi hanno accoltellato, la mamma è rimasta un po' al telefono ed è riuscita a farsi dire un nome, solo che Manuel stava morendo, quindi non riusciva a formulare delle frasi concrete, no? E quindi è riuscito a dirle soltanto un nome. Questo nome è Luca. Io non vorrei dire, ma è uno dei nomi più comuni in Italia, quindi cercare un assassino che si chiama Luca senza avere nessun altro riferimento non era certo semplice. Chiaro, andavi a scandagliare sul cellulare di lui, sui contatti, tutto il resto lo trovavi, però. Intanto lei aveva solo un nome, questo Luca. Sono riusciti nel giro di 24 ore gli inquirenti a trovare l'uomo corrispondente al nome Luca. Luca. Perché? Perché Luca è un coglione. Perché Luca è un assassino ed è anche un coglione. Scusatemi, però, col cuore, cioè, sinceramente, ora vi faccio una domanda, no? Se trascorrete la serata con un vostro amico, bevete come non ci fosse un domani e finisce che voi uccidete il vostro amico e vi siete fatti un selfie prima, cosa fate? Anzi, vi siete fatti un selfie prima e poi lo avete pubblicato su Facebook. Cosa fate appena scappate dalla scena del crimine? Tolgo il posto, tolgo da Facebook, mi tolgo da Facebook, esatto, cioè, elimina completamente il tuo profilo. Mi cambio le mutande, mi sembra un ottimo inizio. Le mutande è un ottimo inizio. L'assassino ha lasciato il selfie con la vittima tranquillamente per 24 ore e passa. E quindi l'hanno beccato così. Ho detto, ma chi è sto Luca? E sono andata a guardare Facebook e l'ultima foto che, in cui era stato taggato, insomma, non so, adesso comunque l'hanno beccato subito, l'hanno beccato subito sto post, era proprio di Luca De Bonis, come potete vedere. Quella sera avevano trascorso la serata insieme. Poi dopo, anche questo ovviamente verrà ricostruito sia dalle telecamere, sia dalle varie testimonianze, vedrete che ci sono anche persone che sapevano di questo loro incontro. Cioè, hai lasciato il selfie e dopo tre ore l'hai ucciso, santo cielo, veramente. Ma ci puoi insegnare tutto io. Comunque, Luca De Bonis, 33 anni, originario di Piano Gentile, provincia di Como, sempre. Però, di fatto, un ragazzo senza fissa dimora. E era molto amico con Manuel, quindi si vedevano spesso. Quella sera, infatti, avevano in programma di farsi una serata bagorda, bevendo e facendo delle chiacchiere, immagino. Quindi, Luca si recca a casa di Manuel intorno alle 22.30. E questo lo sappiamo non solo grazie alle telecamere, ma anche grazie alla testimonianza di un amico comune che li aveva accompagnati entrambi in macchina, perché Manuel avevano ritirato la patente, non poteva guidare, quindi questo amico gli faceva un po' da chaperon. E li ha accompagnati lui. Quindi, cioè, ha lasciato dietro di sé veramente un sacco di prove, questo killer. Durante l'interrogatorio davanti al PM, Luca ha negato per un po' di ore, poi una certa si è stancato ed è crollato e ha confessato. Tra l'altro ha fatto anche trovare l'arma del delitto, perché ha utilizzato un coltello da cucina di proprietà di Manuel, perché l'ha trovato a casa di Manuel, e poi l'aveva abbandonato in mezzo a una cascina, in mezzo a campagna. Quindi, quella sera i due avevano bevuto davvero, davvero tanto, però in totale serenità, perché erano appunto d'accordo di farsi questa serata goliardica tra di loro. È stato lui in foto, sì, questo è l'assassino e questa è la vittima. Stavano bevendo, è successo qualcosa per cui, movente, esatto, Kim, sì, è questo che non si capisce, perché è successo qualcosa per cui è scoppiata una lite tremenda tra di loro, e così racconta Luca, ovviamente, qual è l'unica versione che può dare quando viene fuori che l'hai ucciso tu? È che ti stavi difendendo da un'aggressione, quindi, leggete ma difesa! Sì, vabbè. Praticamente Luca ha detto che Manuel lo aveva aggredito e quindi lui non ha potuto fare altro che accoltellarlo per difendersi. Ok. Comunque, la verità è che praticamente sto movente manco se lo ricorda, perché probabilmente era troppo ubriaco, quindi al momento non si sa quale sia il motivo per cui è scoppiata questa lite, e credo che il motivo per cui non lo sappiamo è che manco Luca se lo ricorda. Comunque, cosa abbiamo in comune? Sì, tanto amici, ma forse erano amici anche in quanto, diciamo, soci in affari, perché anche Luca ha dei precedenti per spaccio. Quindi, magari erano amici, ma portavano avanti qualche affaruccio illecito e, non so, potrebbero aver litigato per, appunto, lo spaccio, per dividersi i proventi, per i soldi, per quello che può essere, e quindi alla fine Luca ha perso il controllo, ha preso un coltello e gli ha dato una coltellata che però è risultata fatale. Allora, adesso vi devo parlare invece di un altro giallo che mi ha presa parecchio e poi arrivamo ad Andrea. So che molti di voi sono qui perché stanno aspettando che io stia parlando, che io parli... So che molti di voi sono qui perché stanno aspettando che io parli di Andrea. sarà non questa notizia alla prossima e, ragazzi, io utilizzo il metodo quarto grado, eh. Alleluia! Ho imparato dalla televisione, ogni tanto si impara anche dai vest, ragazzi, va così. Ho imparato dalla televisione che conviene tenere la notizia più aspettata, diciamo, nel mezzo della puntata. Così chi arriva è costretto a restare e ascoltare anche tutto il resto. Ah! Eh! Eh! Su Andrea oggi sono uscite delle notizie che potrebbero completamente ribaltare il quadro della situazione. Comunque, datemi un secondo, parliamo un attimo del caso di Pavullo, giallo di Pavullo, che è un caso veramente assurdo e inquietante e poi andremo sul caso di Andrea. Questo uomo che vedete in foto si chiama Giovanni Iacconi, aveva 54 anni ed era originario di Spezzano di Fiorano Modenese, ovviamente provincia di Modena. Lui lavorava come allestitore di stand nelle fiere per l'azienda ceramica Marazzi di Sassuolo. Che ragazzi, us dis Sassuolo. Come io dico cuomo, voi per favore pronunciatelo Sassuolo, perché us dis a sé. Il 19 gennaio viene ritrovato da suo fratello morto in avanzato stato di decomposizione in un appartamento di una palazzina a Pavullo, in via Giardini Nord. Ora, diamo un attimo di contesto a questa vicenda. I familiari, che poi in realtà consistono soltanto in suo fratello, perché adesso capirete, insomma, è una situazione piuttosto particolare, dove il suo legame principale era con il fratello maggiore. Comunque, i familiari non avevano sue notizie dal 2 di gennaio, che era l'ultima volta in cui appunto suo fratello, che si chiama Romano, lo aveva sentito al telefono. Solo che Romano aveva pensato ad un allontanamento volontario da parte del fratello Giovanni, perché comunque stiamo parlando di una persona di 54 anni, single, che aveva i suoi hobby, le sue robe, quindi magari semplicemente, no, era partito per farsi un viaggio senza avvisare nessuno, anche perché non è che aveva una gran vita sociale, no? Solo che l'8 di gennaio non si presenta al lavoro, e questa è una cosa assolutamente non normale, per quanto ogni tanto Giovanni sparisse e si facesse i cavoli suoi, però quando c'era da lavorare andava a lavorare. A quel punto i familiari si spaventano, si preoccupano e sporgono denuncia di scomparsa. Il fratello lo fa. E, insomma, dal 2 di gennaio nell'angoscia totale Romano non riesce a trovare il suo fratello. Lo troverà, ahimè, il 19 di gennaio, quindi due settimane abbondanti dopo dalla scomparsa, perché entrerà nella loro casa di montagna. Avevano questa casa di montagna sull'Appennino, appunto lì a Pavullo, che tenevano per andare in vacanza. Era di comproprietà sia di Romano che di Giovanni, perché appunto l'avevano ereditata dai genitori, che era la casa dove vivevano appunto i loro genitori, che ormai sono deceduti, e quindi era passata loro e se la dividevano per le vacanze. Il 19 di gennaio Romano va lì per arrieggiare un attimo, perché comunque le case non è che puoi lasciarla abbandonata a se stessa, è andata lì a far... aprire le finestre, tirare un po' d'aria, mettere a posto la casa. E in realtà voi direte, no? Ma com'è possibile che lo cercavano da più di due settimane e non erano ancora andati a cercarlo lì? Regà, in realtà c'erano già andati a cercarlo lì, perché Romano era andato a cercarlo in quella casa già pochi giorni dopo la scomparsa di Giovanni. Ma quando era entrato, non è che si è messo a guardare sotto i letti, dentro gli armadi o nelle tubature. Ah, semplicemente ha fatto un giro della casa e semplicemente non l'ha trovato suo fratello. Non è che pensava di doverlo andare a cercarne i pertugi, no? E quindi poi ha semplicemente chiuso la casa e se n'è andato. Non sapeva che in realtà suo fratello era già in quell'appartamento nascosto, adesso capirete come, nascosto, ma non lo ha trovato. Effettivamente quel giorno quando lui è andato lì ha sentito un po' di odore strano, ma non lo ha certo attribuito alla presenza di un cadavere. Non era un odore così forte da credere che ci fosse un cadavere. A quel punto poi ci è tornato il 19 di gennaio, perché appunto è andato lì semplicemente per arieggiare. Ogni settimana ci faceva un salto per vedere come era messa la casa, no? A quel punto però quando ci torna il 19 di gennaio sente davvero una puzza molto, molto, molto acre e molto forte. E seguendo questo odore, che poi era il classico odore della decomposizione, anche lui l'aveva capito e questa cosa l'aveva spaventato tantissimo, tant'è che poi ha chiamato anche un suo amico che lo ha raggiunto, tale Enrico, perché si stava spaventando tantissimo sentendo questo odore e insieme hanno notato che da sotto il letto della camera da letto, a parte che era la camera da letto la fonte di questo odore, però non vedevano niente così nella stanza, ma notano che da sotto il letto spunta l'angolino di una coperta e tirano la coperta e dentro c'era arrotolato il corpo del povero Giovanni in avanzatissimo stato di decomposizione, che terrore, ma infatti, cioè, tra l'altro io ho sempre avuto il terrore di avere qualcosa di strano sotto il letto, cosa inquietante sotto il letto, questa storia qui mi ha veramente sconvolta e non oso immaginare come possa stare il povero romano al ricordo, insomma, che poi lo tormentera tutta la vita di aver trovato il fratello messo così sotto il letto a volte in una coperta, davvero. Per tala coperta hanno trovato questo corpo e indossava ancora i vestiti ed era, sembrava in perfetto ordine il corpo. Chiamano immediatamente, ovviamente, carabinieri e scoprono che da una prima occhiata esame esterno sul cadavere, scoprono che deve essere morto da almeno due settimane, quindi probabilmente proprio da quel 2 gennaio in cui non si è più fatto sentire Giovanni era morto. Altro non c'era niente a soccuadro nell'appartamento, quindi apparentemente non c'erano segni di colluttazione. Oh raga, io ho pensato anche questo, a meno che non arrivi a rompere, danneggiare degli oggetti, cioè ci sta che magari ci sia stata una colluttazione ma il killer da bravo killer educato poi ha rimesso tutto a posto prima di andare via, cioè non è detto che se in una casa non ci sono segni apparenti di colluttazione allora non c'è stata nessuna colluttazione perché appunto come vi dicevo a meno che non ci siano delle distruzioni di materiali uno può sempre riordinare le cose quando ha finito di compiere il suo omicidio, no? Perché non ci credi mai fino in fondo, cioè non so come dire, quando tu senti quell'odore lì pensi vabbè sarà qualcosa di marcio, sarà un animale che è entrato, non vuoi credere che sia il cadavere il tuo fratello e che tra l'altro non hai trovato dentro quella casa già andando a cercarlo, no? E poi di trovarlo sotto il letto avvolto in una coperta, cioè se tu pensi che qualcuno sia morto all'interno di una casa ti aspetti di trovarlo cadavere sul pavimento, sul letto, massimo, nella vasca, no? Ma non ti aspetti di trovarlo avvolto in una coperta sotto al letto, cioè è anche questo, non vedendo nessun corpo in casa non ti viene da fare il link diretto a questa cosa, no? Ok, comunque quello che vi volevo dire è Giovanni non era sposato, viveva da solo in questo piccolo appartamento di fronte a suo fratello, quindi stava, aveva la sua casa fissa lì e poi aveva nella casa vacanze, no? Lui è morto nella casa vacanze e con il fratello aveva un ottimo rapporto, c'erano molto, molto legati, quindi è stato occultato, eh per forza, a me ha fatto sorridere, sinceramente, ero con la patata Floridian che le stavo leggendo questa notizia appena mi era arrivata sott'occhio, tra l'altro Floridian ha assistito a tutta la stesura del TG Crime e si diceva ah, ipotesi, omicidio, si pensa possa essere un omicidio, io lì ho cominciato a dire no, eh? No, eh? No che la gente si avvolge nelle coperte tipo Albert Fish nei tappeti poi si ficca sotto il letto per morire, cioè, eh? Comunque, grazie al cielo non era la procura di Trieste quindi non è non è neanche passata per l'anticamera del cervello del PM pensare a un suicidio, grazie al cielo. il mio gatto aveva ucciso un cucciolo di pipistrello la notte ed era riuscito a portarlo in camera finestra con scuri semi chiusi era un mostro comunque l'ha imboscato dentro il letto in fondo oh mio Dio che schifo ricordo ancora la puzza assurda che mi ha svegliato la notte e ho capottato il letto volevo bruciarlo ci credo non mi avevo portato niente intendevo questo messaggio sopra ah, no ma vedete che ogni tanto è ripetita Juvent se riscrivete le cose è più facile che poi le veda ma la polizia capisco che investigare non li ha letti ma guardare sottiletti è la base ma la polizia in quella casa manco c'è entrata perché questo fratello romano ha depositato la denuncia di scomparsa e più di oggi si sono puliti il culo con la denuncia di scomparsa con ogni probabilità perché cazzo cioè va bene che non lo trovi così però gli inquirenti dentro quella casa non ci hanno messo piede non l'hanno cercato ed era una sua proprietà è una proprietà a me mi sembra veramente assurdo comunque ok ma qual è il vero mistero? il vero mistero è Giovanni come c'è arrivato nella sua casa di montagna sua casa vacanze se la sua macchina era ancora a casa sua? probabilmente con l'assassino perché infatti la sua auto è stata ritrovata parcheggiata normalissimamente come ha sempre fatto nel suo garage a Spezzano nel garage del suo appartamento e quindi all'inizio non si capiva effettivamente come potesse aver raggiunto la casa vacanze a Pavullo senza macchina e quindi immediatamente hanno collegato che qualcuno deve averlo accompagnato quindi sicuramente Giovanni non è morto da solo in quella casa anche se sul corpo non ci sono segni evidenti di un omicidio insomma non ci sono segni evidenti di di violenze telecamere le stanno analizzando ricordatevi che c'è sempre molta flemma con calma indagare con calma il caso non è mediatico quindi con calma io veramente lo sto dicendo con ironia anche se non si capisce però è quello si ho tarucao è finito ho visto che solo 30 giorni durano questi abbonamenti farlocchi e non giocava a nascondino la ricostruzione del PM di Trieste sarebbe stato molto probabilmente Giovanni quella sera probabilmente giocando a nascondino con il suo amico immaginario si è messo sotto il letto ed è soffocato random là sotto comunque no grazie al cellulare mamma Modena e hanno interrogato la vicina di casa la vicina dell'appartamento appunto lì di Pavullo della casa vacanze e la vicina ha detto di aver visto la sera di capodanno Giovanni in compagnia con una compagnia di un altro uomo quindi erano in due in quella casa a capodanno pare che questo uomo dalla descrizione che ne fa la vicina corrisponde effettivamente a un amico qua abbiamo tutti assassini amici un amico che è stato visto diverse volte in compagnia di Giovanni si tratta di un uomo italiano ma di origini straniere che Giovanni era solito ospitare frequentemente a casa sua e risulta totalmente irreperibile da quando hanno trovato il corpo cioè prima del ritrovamento del corpo questo uomo era reperibile insomma faceva la sua vita da quando hanno trovato il corpo scomparso non lo trovano quindi insomma con ogni probabilità se non è tutto un insieme di strane coincidenze direi che è stato lui ora non lo hanno ancora trovato quindi aspettiamo che lo trovino e vediamo che cosa ci racconta io la mia teoria ovviamente nel rispetto di questa famiglia che sicuramente è una famiglia molto riservata nel rispetto della privacy anche della vittima e tutto però mi viene da pensare che magari ci fosse una relazione tra Giovanni e questo uomo perché si parla di amico si dice che Giovanni non è mai stato sposato non ha mai insomma era shingle da sé cioè non non voglio fare outing al posto degli altri però mi viene da pensare che ci fosse una una storia tra questi due e magari è stato un delitto passionale magari altri motivi e così ovviamente e beh il pensiero il pensiero viene per quanto lo chiamino amico il pensiero viene ma dopo un po' che tu non trovi il tuo amico che si è nascosto sotto il letto non è che te ne vai e lo lasci lì cioè nel senso no non è comunque una no e pensare che le ho sempre odiate le vicine che sanno anche quante volte vai in bagno a trent'anni le vedo come possibilmente utili che dici non stai lì solo a guardare il tuo orticello ma magari ti preoccupi per me in qualche modo ti occupi della mia vita può darsi che la pillolina blu alla bamba gli hanno dato un tirone oddio non si parla di droghe se fossero state presenti sulla scena l'avrebbero detto adesso ovviamente dall'autopsia si vedrà che cosa aveva in corpo tuttavia raga non credo che 54 anni sia del tutto necessario fare non lo so non frequento 54 anni non ho bisogno di farvi la domanda con cui inizia questo capitolo ovvero ricordate Andrea Rabciuk sono molto contenta di sapere che tutti quanti la ricordate per quanto siano passati ormai quasi due anni dalla sua scomparsa lei infatti scompariva nel marzo del 2022 più precisamente tra l'11 e il 12 marzo 2022 alle prime luci dell'alba del 12 marzo dire il vero e Andrea all'epoca aveva 27 anni aveva trascorso questa serata con il fidanzato e altri due amici nelle campagne di Monte Carotto che si trova appunto molto vicino a Iesi in provincia di Ancona e questa serata si era svolta all'interno di una roulotte di proprietà per l'appunto di uno di questi due amici con cui stavano facendo la serata tale Francesco e questa roulotte era parcheggiata fuori dal suo casolare di campagna dal casolare di campagna appunto di questo Francesco ed erano in quattro a fare la serata c'era Andrea il suo fidanzato dell'epoca Simone Gresti e altri due amici uno il proprietario della roulotte del casolare nonché Francesco e l'altra Aurora e insomma la serata a seconda di come appunto tra l'altro questa serata è stata raccontata in maniera piuttosto unanime sia dal fidanzato che dagli altri amici quindi i fatti di quella sera noi li possiamo ricostruire solo attraverso le testimonianze e le testimonianze dei tre effettivamente combaciano quindi o si sono messi d'accordo per dare la stessa versione e tutti e tre conservano il grande segreto di quello che può o non può essere successo o se è vero bisogna andare a pescare qualcun altro che possa aver fatto del male ad Andrea esterno da loro tre in ogni caso quello che sappiamo è che la serata si è conclusa almeno per Andrea con un forte litigio con Andrea con scusatemi col Simone col fidanzato Simone insomma mi si è rotto il cervello momentaneamente aspetta che bevo un sorsino di vino così mi mi rimetto a posto comunque questa serata per Andrea sarebbe terminata appunto con un litigio furioso con il fidanzato Simone Gresti in realtà tutta la sera avevano un po' bisticciato si pensa per motivi di gelosia perché ragazzi Andrea portava avanti una relazione di amicizia con il suo ex che se non ricordo male si chiama Daniele e con questo suo ex fidanzato lei aveva mantenuto un'amicizia e appunto quello stesso pomeriggio erano andati a farsi una passeggiata con il cane con il cane tra l'altro lei aveva lasciato il cane a questo suo ex fidanzato se non sbaglio Simone questa relazione non non è che la prendesse tanto bene comunque non sappiamo esattamente qual era il motivo della loro discussione fatto sta che a una certa Andrea sbottato avrebbe lasciato il suo cellulare in mano a Simone cioè il cellulare di Andrea Andrea lo ha lasciato in mano a Simone e si sarebbe allontanata per questa strada la via Monte Carottese se non sbaglio a piedi da sola andandosene senza soldi e senza cellulare e questa cosa la confermano tutti e tre i presenti non solo il fidanzato anche Aurore e Francesco confermano questa versione e quindi lei si sarebbe incamminata per cavoli suoi per questa via Monte Carottese poi loro pensavano che avrebbe raggiunto la stazione però c'è anche da dire che senza soldi anche se raggiungi la stazione non vai no e quindi un'altra delle ipotesi è che lei magari prima di mollare il telefono in mano a Simone sempre se ci crediamo questa versione sempre se ci crediamo si sarebbe messa d'accordo con qualcuno che potrebbe essere venuto a prenderla con la macchina dandole quindi un passaggio dalla via Monte Carottese e poi magari è stato questo terzo a farle del male tra l'altro ricordatevi che senza offesa ma questo gruppetto erano drughè cioè sostanzialmente quella era una serata drughè per chi non sapesse drughè in romagnolo vuol dire che erano drogatti però in maniera un po' eh drughè così mi era un po' più simpatica comunque giravano sostanzine non so che genere di sostanzine non so a che livello di pesantezza fossero queste sostanzine ma giravano sostanzine alcol e sostanzine quindi magari ci può anche stare che quando erano le sei del mattino più o meno l'orario in cui lei si è allontanata magari questi erano strafatti mezzi addormentati nella roulotte che ci sono comunque anche i materassi cioè proviamo anche ad andare un po' dentro alla situazione no magari questi due bisticciavano gli altri due amici erano buttati mi faccio la fantasia eh mi sto facendo sto lavorando di fantasia magari questi altri due amici erano buttati sui materassi strafatti andando verso l'oblio no andando verso il sonno quindi l'ennesimo litigio tra questi due fidanzati loro erano stanchi non riuscivano a incalzarsi dal materasso hanno detto eh vabbè se ne sta andando quasi un sollievo no potrebbe essere in quel momento ovviamente senza il seno del poi la versione di Simone è stata che loro due hanno litigato lei ha sbottato gli ha lasciato il cellulare in mano addirittura qualche giornale riporta che addirittura gliel'avrebbe messo in tasca comunque vabbè per poi allontanarsi a piedi e la cosa numero uno che ha fatto subito drizzare le antenne soprattutto della mamma di Andrea ma anche degli inquirenti è che Simone si è intascato il telefono di Andrea e non ha risposto tutto il giorno dopo alle chiamate della mamma di Andrea che continuava a far squillare il telefono di Andrea perché ovviamente la cercava perché non era rientrata a casa e Simone in tutto questo non ha risposto alle telefonate della mamma di Andrea e ci voleva veramente poco perché se tu non avevi niente da nascondere stava a rispondere e dire guardi signora ho tenuto il cellulare di tua sua figlia perché è successo questo questo me l'ha lasciato in mano poi è corsa via e quindi ce l'ho io e invece non ha risposto però cosa ha fatto ha aspettato due giorni era troppo rinco dalla coca dici può anche essere può anche essere Simone non ha consegnato il cellulare alla mamma fino a due giorni dopo un giorno e mezzo e quando lo ha consegnato alla madre erano stati cancellati dei dati dal cellulare di Andrea è qui che mi viene da dire non hai risposto perché non volevi rispondere cioè se sei ancora rinco dalla coca sei rinco anche per cancellare eventuali dati dal telefono no e invece a quanto pare era riuscito a cancellarli tutti non tutti e tutti ma diversi dati ora non ho nello specifico quali e quanti dati fossero stati cancellati ma pare che siano scomparsi dei numeri dalla rubrica e delle chat cioè non è così impossibile neanche complesso riuscire a risalire i dati cancellati sul cellulare quindi sicuramente mi auguro che gli inquirenti abbiano raccolto questi dati insomma sappiano che cosa ha cancellato Simone fatto sta che l'ultimo messaggio che Andrea ha mandato a suo padre è stato mi sono messa nei guai senza entrare nello specifico senza però insomma l'ultimo messaggio che ha mandato Andrea al padre non era certo molto rassicurante è un messaggio in cui questa ragazza si sente effettivamente in pericolo sono nei guai sono nei guai non è il fidanzato che ti fa l'ennesimo pippone perché è geloso sono nei guai è qualcosa di un po' più pesante no? comunque vi leggo la testimonianza di Francesco il proprietario della roulotte dove hanno fatto la serata lui dice siamo andati al casolare verso le due e siamo stati insieme fino alla mattina io a loro li conoscevo appena intende Simone e Andrea tutta la notte Andrea ha subito gli insulti di Simone e le sue battutine sgradevoli la mattina ha deciso di andare via l'unica che ha cercato di fermarla è stata Aurora ma poi è rimasta inteso Aurora alla fine è rimasta ha cercato di fermare Andrea ma Andrea quanto pare era troppo convinta di voler di volersi allontanare Simone inizialmente voleva chiamare il compagno della mamma di Andrea poi si è stufato e anche lui l'ha lasciata andare alcuni minuti dopo non so bene quanto anche lui è andato via in auto con a bordo Aurora quindi quindi se è vero quello che dice Francesco potrebbe essere vera la versione dei ragazzi cioè che sia stata Andrea effettivamente ad andarsene ma se è vero che pochi minuti dopo lui e Aurora si sono allontanati in macchina mentre Francesco è rimasto a dormire nella sua roulotte magari allontanandosi in macchina hanno incrociato cioè hanno raggiunto Andrea a piedi sulla strada e magari l'hanno caricata in macchina e poi bisogna capire cosa è successo dopo chi è che scrive sono nei guai e stop chi non ha tempo di andare nello specifico forse una richiesta d'aiuto nell'immediato o forse semplicemente non hanno divulgato il contenuto integrale del messaggio perché sapete tante volte quando c'è un caso in corso di indagine non è che ci dicono tutto 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 no comunque secondo me non lo ha scritto lei beh che senso avrebbe scrivere un messaggio del genere da parte di un assassino se vuoi far credere che lei poi abbia deciso di togliersi la vita avresti scritto qualcosa di più attinente al al disvivere sabato 20 gennaio 2024 cominciamo ad avere la certezza che questo corpo sia effettivamente di Andrea si trovava in questo casolare che è un casolare abbandonato che si trova a meno di un chilometro dal luogo della scomparsa cioè dal casolare di Francesco questo casolare dista meno di un chilometro e più precisamente il corpo che poi era ridotto soltanto a un cumulo di ossa il corpo si trovava in quella che era la cucina al piano terra che i due proprietari fratelli tra di loro di questo casolare abbandonato avevano adibito a legnaia il corpo era nascosto diciamo dietro una scala una sorta di sottoscala e la scala era pericolante considerato anche che c'era un crollo parziale del controsoffitto quindi insomma era una scala sulla quale non è che si può camminare andare su ecco come vi dicevo il corpo è stato trovato ridotto ad un cumulo di ossa tra l'altro un cumulo di ossa definito disordinato ovvero lo scheletro è integro pare non manchino delle ossa ma queste ossa erano non in ordine ok disordinate come se qualcuno o qualche animale li avesse spostate potrebbero anche essere i topi esatto potrebbero anche essere i topi animali selvatici non è detto che in ogni caso questo corpo era ancora perfettamente vestito aveva gli scarponcini il giubbotto la felpa di Tom e Jerry e lo zainetto fluo tutti oggetti che la mamma ha riconosciuto come appartenenti ad Andrea quindi per questo vi dico non ci sono troppi dubbi sull'appartenenza del corpo rispetto ad Andrea perché appunto indossava tutti i suoi vestiti chiaro non abbiamo ancora il DNA che chiaramente darebbe la risposta completa però forse non c'è neanche troppo bisogno di aspettare il DNA sì adesso ci arriviamo mescolate sì le ossa erano mescolate anche un cane sì qualunque animale selvatico avrebbe potuto farlo comunque il casolare si trova al civico 26 della via Monte Carottese la stessa via lungo la quale Simone diceva che Andrea si fosse incamminata Simone e gli altri due amici si fosse incamminata per allontanarsi tra l'altro quella zona lì e voi vi ricordate sicuramente perché questo caso l'abbiamo trattato fin dall'inizio tutte le zone limitrofe al luogo della scomparsa sono state setacciate palmo palmo centimetro per centimetro dai ricercatori ma anche dai cani molecocani e un cane molecocane una pista di questo genere cioè se lei si fosse allontanata a piedi per poi andare dentro il casolare l'avrebbe sentita sicuramente in più hanno setacciato dappertutto non guardano dentro i casolari abbandonati ovvio che hanno guardato anche dentro i casolari abbandonati cioè non posso pensare regà io non posso veramente credere né pensare che il corpo si trovasse a 800 metri praticamente da dove è scomparsa e in settimane e mesi di ricerche non lo abbiano trovato perché sono tonni gli uomini possono anche essere dei tonni ma i cani sono dei cani e non sono dei tonni quindi i cani l'avrebbero sentito l'odore ma sicuramente è l'ipotesi principale al momento è che il corpo sia stato spostato successivamente io regà ve lo dico siamo davanti a un Yara Gambiraso e due e o dall'autopsia il medico legale riesce immediatamente a dare una risposta precisa cioè si è palese che il corpo sia stato spostato oppure no è morta qui punto ma raramente queste cose accadono soprattutto quando passano due anni o diventa un altro giallo alla Yara Gambirasio non vorrei che finisse di nuovo nel turbinio di dubbi per cui ancora dopo anni e anni non si sa come sia arrivato lì quel corpo allora come vi dicevo quel casolare lì è di proprietà di due fratelli che appunto lo lasciavano come un rudere scusatemi lo lasciavano come un rudere utilizzavano una parte come legnaia e non se ne curavano più di tanto però entrambi confermano che sia il casolare che le zone limitrofe erano state setacciate nei giorni successivi alla scomparsa di Andrea in particolare il 16 marzo del 2022 quindi quattro giorni dopo la scomparsa di Andrea e si presume anche la morte a questo punto i proprietari avevano chiamato i carabinieri perché avevano notato che una delle finestre del casolare era stata sfondata stata rotta e a quel punto i carabinieri sono arrivati e hanno perquisito il casolare ora è chiaro che il corpo era in un punto pericolante quindi magari non si sono azzardati ad arrivare fino a quel punto pericolante non hanno visto il corpo ma dopo quattro giorni l'odore lo avrebbero sentito il fatto che abbiano ispezionato il casolare non hanno sentito nessun odore non hanno trovato nessun corpo e i carabinieri ci sono entrati perché i fratelli li hanno visti entrare e fa pensare che o davvero non vedono un palmo dal naso o quel corpo è stato portato lì successivamente magari magari fatto allora se siamo davanti a un genio del crimine è davvero un genio del crimine perché vuol dire che è andato lì ha sfondato la finestra ha aspettato che i carabinieri facessero il sopralluogo per vedere che non c'era niente quindi a quel punto si dà per scontato che la zona ormai è stata setacciata il corpo non c'è e a quel punto vai a metterci il corpo è geniale quindi sfondi la finestra per attirare l'attenzione sul luogo fai per illustrare il luogo e dopo ci metti il corpo così avrebbe senso vi leggo questo trafiletto di repubblica solo per aiutarvi un attimo a mettere in discussione le notizie quando leggete sui giornali perché io capisco che chiaramente i giornali servono a questo servono al fatto che non dobbiamo fare noi ricerca non dobbiamo noi sforzarci perché le notizie ci vengono propinate da chi al nostro posto fa ricerca e chi al nostro posto ragiona purtroppo non è sempre così quindi se siete ovviamente mega interessanti lo so già c'è un po' di sparafluo oggi con i colori poi sistemeremo comunque come vi dicevo tante volte siete appassionati di true crime se vi piace ragionare su queste cose potete tranquillamente comprendere quali ragionamenti semplicistici fanno i giornalisti che tante volte si ergono a giornalisti investigativi e cazzo sembrano degli investigatopi comunque vi leggo questo trafiletto da Repubblica giusto per farvi capire cosa intendo e d'altra parte altrettanto strana potrebbe sembrare la scelta dell'assassino di Andrea di portare successivamente il corpo della ragazza in un casolare così vicino al luogo della scomparsa che si affaccia direttamente su una strada percorsa ogni giorno da centinaia di auto la stessa strada sulla quale Andrea si sarebbe allontanata senza soldi né cellulare cioè questo dell'articolo sosteneva che il corpo non poteva essere stato spostato lì perché è troppo vicino al luogo della scomparsa ma raga è la cosa più intelligente da fare nel momento in cui hanno setacciato in lungo in largo ogni centimetro di appezzamento di terra che c'è in quella zona lì per un anno un anno e mezzo non so quanto tempo la mossa più intelligente da fare è mettere il corpo lì perché è proprio lì che non lo cercheranno perché ci hanno già guardato e quindi non guarderanno più dove hanno già guardato per cui se abbiamo un assassino intelligente e non i soliti rincoglioniti come quello che mette il selfie prima di uccidere l'amico e lo tiene online obbedini che vuole fare il serial killer davanti alle telecamere se uno con un po' di usta un po' di IQ effettivamente una mossa così è furba Simone Gresti era il fidanzato di Andrea all'epoca ed è sempre stato l'unico indiziato per questo caso fin dalla scomparsa lui è stato iscritto nel registro indagati per spaccio di sostanzine e per sequestro di persona che poi aveva anche poco senso sequestro di persona perché se tu sequesti una persona e questa persona per due anni è scomparsa è poco sequestro a meno che tu non la tenga nascosta in un bunker sotterraneo di cui nessuno sa dell'esistenza è poco è poco sequestro Simone Gresti oggi ha 44 anni è passato alle cronache come l'uomo del cerchietto ha fatto dei meravigliosi interventi su chi l'ha visto che ovviamente lo trattavano fin da subito come assassino certo perché loro hanno la verità in tasca sempre quindi va bene e l'hanno beccato io quella puntata vi giuro è tipo stavo volando perché lui si stava facendo la sua serata al bar con gli amici sono arrivate le telecamere di chi l'ha visto per fare il servizio in diretta e lui è stato preso un attimo alla sprovvista ed era ubriaco come c'era a ciuppo come un drago in quel momento e quindi era non me lo ricordo benissimo l'intervista ma diceva delle cose che non avevano senso e poi era super sbronzo però io mi dico cioè non so se mi vieni a fare un'intervista ora che lui sia l'assassino o meno comunque porta avanti la sua vita se mi vieni a fare un'intervista sorpresa mentre io mi faccio la serata goliardica con gli amici non è così raro che magari mi becchi in una situazione un attimo brilla e quindi dovevano farlo risultare ovviamente super super mega criminale in barieg briacoan eccetera eccetera lui come vi ho detto finora è sempre stato l'unico indagato ma adesso l'ipotesi di reato si è trasformata da sequestro di persona a omicidio volontario ovviamente nel frattempo però dovete sapere che in questi due anni in cui sì Simone era indagato ma la procura non si muoveva non c'era nessun rinviaggiudizio cioè pian pianino comunque le persone devono andare avanti nonostante siano indagati Simone ha provato a rifarsi una vita tant'è che ha un nuovo lavoro lui prima se non sbaglio faceva il camionista adesso ha un nuovo lavoro che non so quale sia e ha una nuova fidanzata ora io vorrei mandare un pensierone alla nuova fidanzata perché fossi lei in questo momento mi sentirei veramente a disagio no terrorizzata non a disagio terrorizzata e tra l'altro io mi chiedo ma come funziona nelle coppie in questo caso cioè tu hai creduto a lui hai creduto che lei fosse semplicemente scappata scomparsa sarà fatta una vita con qualcun altro da un'altra parte e poi trovano il corpo e poi indagano il mio moroso per omicidio volontario della ex che si fa che si fa cioè si si lascia fino a che non salta fuori una prova schiacciante che lo scagiona o lo incrimina ok veniamo ai plot twistoni ragazzi poi parliamo di tutte le ipotesi possibili perché hanno fatto l'esame autottico ieri ovvero lunedì 22 gennaio e dall'esame autottico che sarà stato come l'esame che fa bones cioè quindi analisi delle ossa dalle ossa insomma non sono stati riscontrati segni di lesioni traumatiche quindi ci fossero state coltellate colpi che hanno creato delle fratture anche solo delle micro fratture sarebbero emersi invece non emerge nessun tipo di trauma sulle ossa di Andrea poi eh questo non è per forza una un dato perché se tu per esempio tagli la gola o operi sui tessuti molli magari dai una coltellata al ventre che va a prendere non so il fegato ma non tocca le ossa potrebbe anche esserci una morte violenta ma che non è stata individuata sulle ossa perché appunto sono stati lesi direttamente gli organi è uno strangolamento brava esatto tra l'altro a volte però strangolamento potrebbe andare a ledere l'osso l'osso ioide quindi Bones era in grado di di vedere se c'era uno strangolamento o meno ci sono degli antropologi forensi tra l'altro Bones adesso io parlo di Bones è una serie tv non so se l'avete vista nel caso vi piaccia il true crime e avete stomaco per i cadaveri perché lì la roba è proprio liquami di sguazza tra cadaverina e robe varie guardatela perché è molto molto bella ma tra l'altro è anche molto accurata perché a scrivere quella serie è stata la più famosa antropologa forense degli Stati Uniti che ha un curriculum della madonna e persone come lei che adesso sono in pensione si dedicano diciamo lo studio dei cold case e tutto il resto qua in America esistono ma in Italia ciao infatti sarebbe veramente una figata in senso investigativo ovviamente non in senso umano che le ossa di Andrea potessero essere portate in America e analizzate dai più grandi antropologi forensi americani perché vi giuro che stanno non una spanna 8000 spanne sopra agli italiani e quindi insomma da questi capelli ovviamente faranno un esame tossicologico per capire anche le quantità di sostanze stupefacenti che c'erano nel corpo di Andrea che ci fossero abbastanza scontato la quantità ovviamente è da verificare ora raga preparatevi perché oggi sono usciti degli articoli in cui c'è un plot twist completo cioè nel senso se questa cosa viene poi confermata ma è stata ripetuta da più e più testate giornalistiche quindi quando è così di solito è una notizia confermata potrebbe ribaltare completamente la situazione cominciamo a entrare in quella grande dimensione dei casi gialli in cui ci si chiede è omicidio o suicidio perché nel casolare dove è stato rinvenuto il corpo è stata trovata una corda arrotolata a una trave proprio in prossimità del punto dove sono stati trovati i resti e quella corda arrotolata a una trave può sembrare un cappio inoltre è stato trovato un biglietto e io qua sono impazzita ragazzi io sono impazzita perché ci dicono che c'è un biglietto ci dicono che la scrittura è quella di Andrea ci dicono che il contenuto è attinente a quanto avvenuto nel casolare ma non ci dicono cosa c'è scritto se una persona si appende per il collo ad una trave e passano due anni non la ritrovi appesa alla trave non è come nei film che vedete ancora gli scheletri attaccati alla trave il depauperimento dei tessuti comunque fa spezzare le ossa i legamenti quello che è e il corpo prima o poi scivola o comunque si rompono i legamenti e il corpo va giù ma allora mi chiedo hanno obbligato Andrea guarda che raga di questo diventa un giallo senza fine io spero che trovino delle prove che possano subito svelare la verità perché sennò davvero diventa un giallo senza fine staging quando l'assassino modifica la scena del crimine per far credere che è successo qualcosa di diverso rispetto all'omicidio un classico staging è Mario Biondo un classico staging Lorenzo Casini per me è un palese staging ma anche per gli inquirenti e tutto quindi si pensa no che gli assassini o l'assassino possa aver sistemato la scena del crimine in modo tale che si potesse pensare un gesto volontario della vittima anziché ad un omicidio però a questo punto non ha più senso che il corpo sia stato portato lì successivamente o lei è stata obbligata a scrivere questo biglietto sotto forzatura e comunque un bravo grafologo lo capisce immediatamente se è una scrittura fatta sotto pressione o se è una scrittura fatta di spontanea volontà in ogni caso quel biglietto ha scritto Andrea e il corpo appeso quattro giorni dopo la sua scomparsa non c'era quindi è scappata poi è tornata lì per togliersi la vita in quel modo mi sembra veramente tutto assurdo Andrea era una campionessa di tiro con l'arco era una bravissima ragazza era comunque una che è sempre stata diciamo sulla retta via poi ad un certo punto ha incontrato brutte compagnie come dice la madre e si è un po' invischiata in sti drughe no? con sti drughe mi viene da pensare che lei ad un certo punto si fosse così tanto invischiata magari magari era legata a queste persone anche non lo so tramite degli affari tramite qualcosa per cui non poteva andarsene di sua spontanea volontà ma avrebbe tantissimo voluto liberarsi da quella situazione e quindi tu chiedi al tuo ex di farti sparire ma non di farti sparire così da tutto il mondo ma di farti sparire da quelle persone che poi vorranno sempre qualcosa da te indietro no? oppure anche tu in qualche modo vuoi no? dici al papà quando vedi che non c'è proprio via d'uscita da questa situazione da queste persone che magari ti tengono sotto ricatto ti tengono sotto scacco in qualche modo e dici mi sono proprio messa nei guai c'è della serie e poi col padre da quello che ricordo non avevano un rapporto all'ordine del quotidiano era un papà piuttosto lontano no? non gli avrei detto tramite sms eh ma se è l'ultima cosa che puoi fare prima di morire non so eh guarda Mario Lane non è detto non è detto tante volte la vita ti porta in situazioni che non ti non ti aspetti magari anche un periodo di fragilità in cui ti senti sola ti senti tradita da delle persone che amavi ti avvicini a questi magari che sono dei debosciati ma ti danno l'idea di essere persone più fedeli e meno giudicanti di altre poi ti ritrovi in una situazione di merda se lo scheletro è integro nel senso che tutte le parti sono in zona allora è integro ma non è assemblato questo è il punto se non vi sono segni di violenza nelle ossa agli occhi della legge il decesso potrebbe anche essere imputato ad un'overdose in quel caso essendo passati due anni non potendo fare il tossicologico non lo posso fare dai capelli hanno detto che dai capelli si può fare in pratica diviene impossibile determinare oltre ragionevole dubbio se c'è stato o meno un assassino comunque hai aperto un punto interessante grazie al cielo ci sono i capelli con il bulbo quindi riusciranno a fare l'esame tossicologico e potrebbe esserci anche un'altra opzione rispetto a tutto quello che abbiamo detto ovvero io ho una grande domanda se Simone ha ucciso la ex fidanzata la fidanzata perché era geloso perché non voleva essere mollato perché qualunque motivo che gli altri due continuano a difenderlo perché gli altri due continuano a raccontare la stessa versione che racconta lui tra l'altro come avete sentito Francesco comunque insiste sul fatto che tutta la sera Andrea ha dovuto subire le angherie di Simone quindi comunque gliela dà la stoccata Simone forse perché tutti e tre hanno qualcosa da nascondere insieme e l'unica cosa che avrebbero da nascondere tutti e tre insieme è un overdose e a quel punto loro tutti e tre vanno nel panico e pensano ok nascondiamo il corpo e facciamo finta che lei si sia incamminata per da sola tra l'altro vi ricordo che la via Monte Carottese è una via sparsa tra le campagne e a quell'ora tutti i contadini sono svegli che sono in giro a lavorare per i campi e nessuno di loro ha visto una ragazzina con i capelli blu dico ragazzina non perché era piccolina ma perché era minuta nessuno di loro ha visto una ragazza con i capelli blu camminare da sola per strada l'avrebbero notata perché è assurdo in un contesto del genere vedere una donna sola così giovane con i capelli blu lo zainetto fluo la felpa di Tom e Jerry praticamente una bimba che gira da sola in una straduna così in mezzo la campagna ma uno quando è fatto così riesce ad agire in tal modo da nascondere un corpo e sì nel panico cocaina sera cocaina poi pensate anche che lui non risponde al telefono fino a un giorno e mezzo dopo quindi magari che ne so magari è stato con il corpo nel baule della macchina con il corpo nella macchina fino a qualche giorno così nel panico aveva pensato cosa faccio col cellulare cosa faccio col cellulare cosa faccio col corpo che è il corpo nel baule il corpo nel baule rimane nel baule o nel baule o nella macchina in qualche modo non lo so tra l'altro la macchina l'hanno sequestrata l'hanno analizzata tutta e non hanno trovato niente quindi davvero l'ha portata con la macchina e lei non ha lasciato nessuna traccia boh forse è stato la macchina e qualcun altro forse le ha dato un passaggio quando lei era ancora viva poi l'ha scaricata in quel casolare abbandonato ed hanno trovato il corpo e lì è successo qualcosa magari hanno assunto l'ennesima dose per cui lei ha avuto un overdose magari io non so cosa pensare ragazzi vi giuro è è assurdo e tante volte succede che preferiscono occultare un corpo o fare uno staging piuttosto che prendersi la responsabilità di un reato minore come un'omissione di soccorso come uno spaccio di stupefacenti tante cose no cioè se lei si fosse allontanata davvero vogliamo credere a tutti i protagonisti di questa storia e ci può anche stare che tu ti senti con l'acqua alla gola sei strafatta di qualcosa non vedi nessuna via d'uscita nella tua vita ti senti incastrata per sempre in una spirale senza fine e decidi di farla finita non ne puoi più a quel punto lasci il cellulare al tuo fidanzato perché tanto ormai non hai più niente da perdere non ti interessa nemmeno del tuo cellulare cammini senza meta fino a che non trovi questo casolare ma dove trovi la corda la cerchi lì questa corda da dove viene anche questo sarebbe interessante vederlo no scrivi un biglietto non hai il cellulare scrivi un biglietto probabilmente avrai le cose nello zainetto ci sta ci sta anche io se ravano nel mio zainetto una birra e un cartoncino lo trovo effettivamente questo sì e ti appendi così e muori ti togli la vita poi arrivano i proprietari cercano della legna vedono che la finestra è rotta chiamano i carabinieri nessuno vede che c'è un corpo appeso magari era già scivolato magari la corda si era rotta cioè non è che possiamo del tutto escludere l'ipotesi del suicidio cioè non lo possiamo proprio del tutto del tutto del tutto escluderlo e che scrivere solo nei guai è perché scrivi solo nei guai non so come uscirne scegli la via di fuga più definitiva non vorrei dimenticare l'ultimo post che lui aveva scritto sui social prima della scomparsa di Andrea scrive Simone Igresti su facebook il 4 marzo quindi sono una settimana prima della scomparsa di Andrea questo è il trono adatto a te sporco di piscio e pieno di merda ti auguro per la vita tutto quello che potrai trovarci dentro una bugiarda rivista pericolosa irriconoscente anaffettiva troppo facile troppo per tutti e purtroppo per lei rovinata per fortuna per me deceduta cioè adesso considerato poi che abbiamo la certezza che è morta questa cosa qui aiuto è vero Dio c'è e ogni tanto mette ognuno al suo posto ogni regina nel suo trono e ogni pagliaccio nel suo circo e nel mio circo tu non ci entrerai più provaci pure provaci miss sicurezza sarà un piacere smontarle tutte le tue e solo le tue presunte sicurezze la revedere pentru tot de auna che scusatemi romeni all'ascolto proprio cioè l'avrò pronunciato malissimo regina de sto cazzo ora la revedere pentru tot de auna vuol dire addio per sempre io lo leggo come si scrive se facessero tutte le lingue come l'italiano che si legge come si scrive credo che saremmo in un mondo molto migliore di questo io confido che riescano a fare un'analisi di quella corda un'analisi del biglietto un'analisi perché ci sarà anche l'analisi entomologica ovvero degli insetti che hanno attaccato la salma per capire se è stata spostata o meno già scoprire se il corpo è stato spostato o lei è morta lì andrebbe a dirimere un sacco di dubbi insomma cioè a svelare un sacco di dubbi lui è il bimbo di mamma e papà che non accetta di perdere il giocattolino e chi conosce Daniele cioè magari che ne sappiamo di Daniele magari anche lui aveva degli interessi riguardo vuoi ricordare Simone ubriaco la possibilità di chi l'ha visto sì sì l'ho ricordato poco prima poco fa io non ricordo Simone dopo che lei se n'era andata cosa aveva fatto lui aveva detto di essere rimasto lì ancora un po' più dopo di essersi andato a casa ma poi anche Francesco no che dice tutta sera Andrea ha subito le frecciatine di Simone direi che i rapporti erano tesi e un bel po' ecco non è da escludersi i ragazzi che possa essere stato anche l'ex perché magari lei ha dato appuntamento a Daniele si sono incontrati lì hanno fatto un pezzo di strada in macchina poi si sono fermati da qualche parte magari è stato Daniele a farle del male e poi successivamente portare il corpo lì cioè adesso puntare il dito contro Simone come fosse per forza lui l'assassino o puntare il dito contro qualunque persona pensando che per forza si debba essere un assassino non è ancora il momento tra l'altro straziante ovviamente l'arrivo della madre sulla scena del crimine che grida ed è comprensibilissima la sua rabbia è comprensibilissima anche la sua irrazionalità in un momento del genere quello che non è comprensibile è la stupidità giornalistica che pur di fare pornografia del dolore rendono pubblico e anzi evidenziano come titolo di chissà quanti giornali che ho letto in questo senso le grida della madre che si scaglia contro l'avvocato di Simone Gresti come osi difendere un assassino allora ragazzi parliamoci chiaro la morbosità di portare su tutte le pagine questo questo sfogo della madre che aggredisce l'avvocato a cosa serve? cioè l'avvocato fa il suo lavoro la dobbiamo piantare di rompere il cazzo di diffamare e infamare gli avvocati che difendono i loro assistiti soprattutto no soprattutto basta se sempre anche se sono palesemente colpevoli hanno diritto a una difesa e qualcuno dovrà pur difenderli e ragazzi gli avvocati servono a questo questo è il loro lavoro ora non per criticare la madre lungi da me la madre è in quel momento era in un momento di crisi tant'è che appunto l'avvocato non ha fatto beo non ha neanche reagito a questa cosa perché lo capisce benissimo che è giustificata a lei a comportarsi in quel modo quelli che non sono giustificati sono i giornalisti che riprendono questa cosa con le telecamere la sbattono dappertutto in tutte le trasmissioni possibili e immaginabili la mettono come titolo dei titoli di giornale dappertutto così che tutti quanti sono lì a odiare il povero Cristo che si è ritrovato a fare l'avvocato a difendere sto qua no? Per cosa? Per far vergognare l'avvocato così che lasci il mandato e questo si trova lì come un show? Per cosa? Perché dobbiamo istigare all'odio perché poi lo sapete com'è l'internet com'è il pubblico in generale chissà questo avvocato quanti insulti si è preso poi se ha pelo sullo stomaco un avvocato penalista è anche un po' abituato a queste cose ma e se no? E se magari questo avvocato nel suo privato sta vivendo una situazione perché gli avvocati sono persone ve lo ricordo che hanno anche loro delle situazioni personali e se questo avvocato magari per assurdo stesse vivendo una situazione tragica nella sua famiglia nella sua vita privata e questa ondata di merda lo porta a fare il passo che non aveva fatto fino a questo punto poi come ci si sente giornalisti? È mostruoso fare l'agogna addirittura ad una persona che è veramente colpevole figuriamoci una persona che ha solo il suo lavoro ed è legittimato a fare il suo lavoro perché? Perché bisogna fare rimbombare e decheggiare ovunque le parole della madre la madre è distrutta dal dolore e ha detto delle cose non corrette ora portarle spargerle in giro come fosse il verbo del signore cioè no 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 pubblicità mica bella pubblicità infame pubblicità infame perché cioè un conto è avere pubblicità perché sei l'avvocato della famiglia della vittima allora sì che quella è pubblicità positiva essere l'avvocato del colpevole che tutti odiano e che addirittura la mamma ha indicato come mostro perché difendi un colpevole ti assicuro che non è una bella pubblicità Daniele Albanesi ha sempre detto di amare Andrea Rabciuk nonostante il loro legame sentimentale si fosse interrotto e anche questo potrebbe essere un movente lo ha fatto davanti alle telecamere durante le interviste o agli inquirenti nell'interrogatorio nelle settimane successive alla scomparsa della 27enne il giorno dopo il ritrovamento dei resti umani attribuibili proprio alla sua ex Daniele ha postato sul suo profilo Instagram un'immagine di lui e Andrea se è una foto dove sono insieme forse l'ultima foto insieme e ha scritto questa è una delle ultime foto che ho con te ti ho sempre amato e sempre lo farò sei sempre con me ogni minuto non riuscirò mai a perdonarmi per quello che non ho fatto ok Daniele e i carabinieri subito dopo la scomparsa di Andrea aveva detto che l'ex fidanzata lo aveva contattato la sera prima della scomparsa inviandogli un sms mi aveva scritto che il giorno dopo l'avrei dovuta passare a prendere voleva passare un ultimo mese in tranquillità e poi andare via e non far più sapere a certe persone dove fosse ecco perché vi dico forse credeva di stare in un imbuto no Daniele a quel punto avrebbe provato a contattarla ma a risponderle sarebbe stato Simone Gresti le avevo scritto un sms dicendole di lasciar perdere quella gente ma sono sicuro che a rispondermi sia stato il fidanzato non dice cosa gli ha risposto però perché finisce qui l'articolo finisce qui c'è un altro omicidio che diciamo sembra essere palese come come è andato insomma chi è stato e tutto il resto ma date le ultime uscite sembra che non lo cioè non lo so di certo quello che scopriamo è questo ci sono delle intercettazioni ora magari la mia ignoranza no però mi ricordo che il ministro nordio aveva fatto approvare una legge secondo la quale non dovevano uscire le intercettazioni sui giornali no sbaglio me lo ricordavo cioè vagamente mi ricordavo questa cosa e la procura ha fatto uscire delle intercettazioni che fanno morire da ridere perché sono intercettazioni di lui che parla da solo in macchina si parla dell'assassino no e però cosa succede che viene fuori e la procura fa uscire solo le parti di intercettazioni che danno ragione a loro cosa succede che l'avvocato di questo sospettato mette le mani sulle intercettazioni fa uscire invece tutto il resto che non è stato fatto uscire dalla procura che invece andrebbe a difesa del suo assistito e quindi cosa scopriamo da questo caso sicuramente non scopriamo se lui è l'assassino o meno ma scopriamo che innanzitutto il ministro Nordi ha fatto delle leggi che la stessa procura infrange e abbiamo abbiamo le procure criminali cioè adoro veramente adoro in secondo luogo che non hanno nessun interesse per la verità perché altrimenti non farebbero uscire soltanto le cose che vanno a confermare la loro ipotesi ma farebbero uscire il tutto e quindi che schifo che che schifo veramente che schifo lui si chiama Alessio Cini per ora guardate soltanto il signore con la cravatta perché lui è la vittima poi questo è il potenziale assassino ma per adesso parliamo di Alessio allora Alessio è un 57enne era un 57enne operaio tessile lavorava alla microtex di Prato ma viveva ad Agliana in provincia di Pistoia è stato trovato all'alba dell'8 gennaio carbonizzato tra l'altro è bruciato vivo poverino nel giardino di casa sua e a trovarlo sono stati i vicini e la figlia che da quello che ho capito la figlia è minorenne però non ne ho la certezza perché non viene specificata l'età però da come se ne parla mi sembra che la figlia sia una adolescente ovviamente figli ai vicini sono accorsi perché hanno visto le fiamme attirati dalle fiamme sono usciti poi si sono resi conto che c'era un corpo che si stava dimenando tra quelle fiamme Alessio era separato dalla moglie ma ancora legalmente coniugato e viveva con la figlia quindi erano solo papà e figlia in casa lui aveva l'affido esclusivo della figlia e ragazzi io quello che so è che la moglie diciamo ex ex moglie era parecchio problematica perché è stata lei a accumulare tantissimi debiti alla famiglia insomma debiti che poi sono ricaduti anche su Alessio e se l'affido esclusivo viene dato al papà triste da dire ma nel nostro paese se l'affido esclusivo del figlio della figlia viene dato al papà significa che la madre l'ha fatta grossa o ne ha fatte di grosse insomma comunque papà e figlia vivevano in una casa colonica trifamiliare in campagna adagliana una casa immersa nei vivai quindi diciamo piuttosto isolata però comunque trifamiliare questo vuol dire che condividevano l'edificio con altre due famiglie infatti negli altri due appartamenti all'interno dell'edificio abitano il cognato di Alessio e una coppia che non ha nessun legame di parentela con la vittima sono semplicemente vicini di casa inizialmente quando arrivano gli inquirenti cercano di concludere la cosa con un suicidio e io mi chiedo cioè dai vogliamo fare Francesco Pantaleo ancora ancora ci prendiamo per il culo quella gente che si dà fuoco da sua comunque all'inizio sembrava un suicidio gli inquirenti avevano anche già trovato il movente economico cioè vi rendete conto che ancora non sanno se è un omicidio o un suicidio ma già identificano il movente e beh aveva problemi economici quindi si è tolto la vita perché infatti Alessio era negli ultimi tempi si sapeva che fosse preoccupato per la situazione sua economica perché infatti c'erano questi debiti contratti dalla moglie e quindi lui era molto disperato cioè tipo a modo dove vado a vive che cazzo cosa cosa faccio mi devo trovare un'altra casa e infatti si era rivolto agli amici per cercare un appartamento a Prato quindi stavano per concludere con eh vabbè suicidio c'hai problemi economici dai gli aiude però fortunatamente l'autopsia ha rivelato la verità e i medici legali hanno studiato a fondo il caso e non si sono certo fermati alle apparenze vedi che ogni tanto le cose vanno per il verso infatti secondo i risultati dell'autopsia Alessio non può essersi tolto la vita perché è stato tramortito con un colpo alla testa con una spranga poi preso a calci scusate il dark humor ma se avesse avuto solo i colpi in testa con una spranga io sono convinta che avrebbero detto che se gli era dati da solo però i calci effettivamente quelli difficili che te li dai da solo in petto dei calci aveva allo sterno alle costole aveva segni di calci infine il corpo è stato cosparso da un liquido infiammabile e poi ha piccato le fiamme quindi lui poverino non riusciva più a difendersi perché era stato tramortito dal colpo alla testa e dai calci però era ancora vivo quando è stato dato alle fiamme quindi cioè una morte veramente atroce quindi secondo una prima ricostruzione investigativa Alessio Cini sarebbe uscito dalla villetta in piena notte indossando insomma gli abiti da casa non era vestito da uscire ecco e avrebbe incontrato il suo assassino inizialmente si pensava che addirittura gli avesse bussato alla porta lui gli avesse aperto la porta insomma ok ha urlato qualcuno ha sentito qualcosa no hanno visto le fiamme hanno visto le fiamme le urla non lo so se ci fossero o meno questo dettaglio non viene riportato il 19 di gennaio questo succedeva raga l'8 gennaio il 19 di gennaio c'è la svolta c'è la svolta perché le indagini portano all'arresto del cognato Daniele Maiorino 58 anni quello che appunto abitava nella trifam in uno degli appartamenti della trifamiliare no lo arrestano con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla parentela e dalla crudel quindi secondo la procura lui è colui che ha picchiato e dato fuoco a suo cognato allora l'omicidio anche attraverso la ricostruzione delle immagini delle videocamere di sorveglianza che tra l'altro hanno ripreso l'incendio quindi si vede proprio a distanza di più di 100 metri ma si vedono le fiamme che si ergono in questo giardino l'omicidio avviene tra le 5.52 e le 5.59 lo sappiamo perché le fiamme iniziano alle 5.58 e si spengono alle 5.59 quindi in quel minuto lui ha perso la vita dell'8 di gennaio ovviamente e a quell'ora solitamente Alessio portava fuori il cane prima di andare al lavoro ma quella mattina portando fuori il cane si vede che ha incontrato questo cognato che lo ha aggredito ah per chi fosse interessato il cane sta bene non so quale sia il viaggio che ha fatto il cane in tutta questa vicenda probabilmente spaventato si è tornato a casa da solo anche perché non era distante da casa sua comunque il cane è illeso ha urlato qualcuno sentito qualcosa non lo so se ha urlato sicuramente hanno visto le fiamme ma se ha urlato non saprei come vi dicevo ci sono anche altre telecamere di videosorveglianza in particolare quelle di un benzinaio allora io vorrei dire una cosa a tutti gli aspiranti assassini criminali quello che nelle stazioni di servizio nelle stazioni di benzina è pieno di telecamere se volete andare a prendere della benzina per dar fuoco a qualcuno non fartelo esattamente dieci minuti prima no no cioè tenetevi lì la tanca cioè vabbè comunque le telecamere di videosorveglianza hanno registrato Maiorino che usciva di casa alle 5.40 cioè lo si vede non mentre esce di casa ma lo si vede attraversare la strada che da casa sua va verso il benzinaio con una tanica di benzina riempie la tanica di benzina al distributore e poi lo si vede allontanarsi alle 5.50 poco dopo inizia appunto la colluttazione con il cognato la probabile colluttazione con il cognato perché io qui vi sto leggendo quello che ha fatto uscire la procura e quindi l'accusa che vuole lui come assassino ma per esempio l'avvocato di Maiorino sostiene che quelle immagini non sono abbastanza definite per poter sostenere che sia Maiorino e non un'altra persona perché così do un po' più di senso a tutta la storia l'avvocato di Maiorino sostiene che a uccidere Alessio sia stato un terzo uomo quindi non Maiorino ma qualcun altro e se la procura dice che quelle immagini riprendono Maiorino l'avvocato dice no non è riconoscibile come Maiorino quindi c'è un po' questo no questo comunque Maiorino in queste immagini che vedete qua è stato intervistato dalla RAI e quando è stato intervistato aveva definito Alessio come una bravissima persona che non aveva nemici aveva raccontato che al momento dell'omicidio lui si trovava in casa con la famiglia e che non aveva visto assolutamente nessuno né niente di sospetto e fin qui tutto ok fino a che io raga cioè mi chiedo no ma tutti questi assassini che parlano da soli in macchina che problemi hanno allora altra cosa visto che oggi è il TG crime per non so crime for dummies porco il clero la smettiamo di parlare da soli nelle macchine soprattutto quando abbiamo appena fatto un omicidio e ci sono gli inquirenti che ci mettono le microcamere dentro la macchina perché sanno che parliamo da soli cioè basta voglio dire cioè le mettono dentro perché perché loro pensano di intercettare le telefonate perché sono ovviamente intercettazioni ambientali loro pensano di intercettare le telefonate mai si aspettano che la gente parli da sola e invece tutte queste persone parlano da sole adoro abbiamo rosario palermo zio michele lui chi altro no ce n'era un altro ce n'era un altro buoni inconti era buoni inconti che parlava da solo in macchina no barbara frasetti no ok ragazzi la prova schiacciante secondo la procura che poi anche qui c'è la 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 discussione perché la procura dice che lui dice qualcosa mentre l'avvocato dice che lui dice un'altra cosa perché non è chiarissimo poi lui parla in dialetto non è proprio chiaro 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 il marito di melania rea questa stessa cosa ma perché con dati particolari esatto spicy perché questo qui non solo non so alla michele misseri no che diceva delle frasi un po' sconnesse no no questo si racconta tutto l'omicidio cioè wow è wow ok si è raccontato da solo per filo per segno l'omicidio è ricostruito ogni momento cioè io vabbè devo dire che questi veramente genio del crimine la procura non ha rilasciato l'intero monologo ma le frasi che davano ragione a loro mentre le frasi che smentivano loro le ha fatto uscire l'avvocato adoro cherry picking procura top come sempre siete meravigliosi ora io non è che ho grossi dubbi sulla sua colpevolezza però mi fa un po' cagare vedere la procura che mette solo le parti del monologo che danno ragione a loro e le parti che potrebbero invece mettere in crisi la loro versione censurate e le fa uscire l'avvocato di parte cioè veramente che schifo comunque questa è la parte che evidenzia la procura l'ho ammazzato che fine di merda l'ho preso a calci gli ho rotto lo sterno il costato l'ho stroncato con calma e ho incomprensibile con l'ambulanza bisogna vedere se quelli dell'ambulanza oh mi piglia un colpo un cintino traduzione pezzo di avvolgibile ma io sono sicuro poi altro pezzo il sangue gli veniva fuori ho commesso un omicidio poi ho perso il capo può essere no gli ho dato fuoco ma avete presente quando fanno le pissoteatrali dove c'è il protagonista o comunque un personaggio che deve parlare da solo per far sentire al pubblico i suoi pensieri in modo tale che la trama abbia un senso e fa lo spiegone non so probabilmente è un personaggio di una sceneggiatura scritta male perché non non me lo spiego perché dire queste cose da soli devo dirci anche il suo codice fiscale già che c'era vabbè quello lo trovi facile ma non mi sembrano quelle persone che parlano d'altra volta nei film e la gente sbagliata che sente tutto io ricordo di una specie di donna boss ora non ricordo che lasciava il cruscotto della macchina impolverato di proposito così si accorgeva che le avevano messo le cimici quando non trovava più la polvere oditate avevo lo spiegone di occhi del cuore ma veramente ma veramente sapevo ancora trash buga ma non parla da solo stava palesemente dando un passaggio suo amico immaginario già che c'era gli ha raccontato il delitto dumb criminal award no dovremmo farli dumb criminal award le peggiori figure di merda degli assassini come sono stati beccati per la loro stupidità ok il movente sarebbe legato all'eredità e voi direte non era pieno di debiti Alessio perché è stato ucciso per i soldi ebbene pare che Maiorino dal canto suo avesse anche lui dei problemi economici e quindi avrebbe messo avrebbe ucciso il cognato per mettere le mani sui suoi soldi perché nel frattempo era morta la mamma di Alessio della quale lui si era preso cura fino agli ultimi giorni grazie zietta buonanotte carissima come sempre è stato un piacere averti qua con noi un bacione grande buonanotte perché Alessio aveva tutte queste preoccupazioni per la situazione economica eccetera però di recente appunto era morta sua madre e lui aveva ereditato pare un milione di euro quindi il piano di Maiorino dell'assassino del sospettato diciamo sarebbe stato una volta fatto fuori il cognato quello di ottenere l'affidamento della figlia di Alessio perché quanto pare la madre l'aveva fatta così grossa che non avrebbe avuto questo affidamento per impossessarsi dei beni della ragazza ovvero dell'eredità della nonna si sente infatti tra le frasi intercettate in macchina mentre parla da solo e sente lui che dice e lei ci campa a me a te messi insieme lei i soldi li ha basta che schiocchi le dita io ve lo dico un po' in toscano che era così quello qua ci deve essere una persona perché lui dice eh lei ci campa a me e te messi insieme a me e te e te chi sei il suo amico immaginario ragazzi cioè io credo che lui abbia l'amico immaginario perché non si spiega non c'è nessuno in macchina con lui non c'è nessuno o è modo di dire tipo eh campaci campamme a te oppure lui sta veramente parlando con un amico immaginario in tutto questo Daniele Maiorino ovviamente si dice innocente e il suo avvocato che non è l'ultimo arrivato si chiama è un'avvocata si chiama Katia Dottore Giacchino ha già individuato tutti i punti critici dell'impianto accusatorio e dice Daniele Maiorino ha respinto l'accusa di aver ucciso il cognato Alessio Cini il movente è inverosimile quindi secondo lei non c'era questa eredità da rubare o comunque non sarebbe stato possibile farsi affidare la figlia così Maiorino ha raccontato che quella notte era in casa con la famiglia e d'altra parte le telecamere dei vicini riprendono il corpo di Cini che prende fuoco ma non si vede nessuna persona che si avvicina alla vittima se il mio assistito fosse uscito da casa sarebbe stato inquadrato questo è quello che dice lei e voi vi chiederete eh sì ok va bene tutto ma le intercettazioni del monologo in cui lui dice che ha ammazzato commesso l'omicidio eccetera l'avvocato risponde così abbiamo sentito gli audio forniti dalla procura e le parole a causa dei rumori di sottofondo non sono comprensibili Maiorino afferma di aver detto lo hanno ammazzato facendo riferimento ad altre persone ed effettivamente questo audio non è chiaro non è ci sono dei rumori di fondo tante parole sono incomprensibili lui parla in dialetto stretto e rigirando tutte le frasi al posto di mettere io ma insomma al posto della prima persona singolare mettere la terza plurale effettivamente può essere ricostruito cioè al posto di l'ho ammazzato che fine di merda eh l'hanno ammazzato che fine di merda l'hanno presa a calci poi non so i toscani come fanno se si mangiano tutto si è preso pieno di acca quindi l'hanno ammazzato che fine di merda l'hanno presa a calci la faglia non lo so per cui insomma l'avvocato sostiene che sarebbe necessario insomma fare una perizia più accurata rispetto alla pulizia dell'audio perché altrimenti può essere malinterpretato poi che cosa dice l'avvocato che è la notte non vorrei che qualcuno avanzasse magari i soldi dalla moglie che aveva fatti i debiti gente che magari sapeva che usciva presto e gli ha suonato il campanello quindi lui al contempo avrebbe confessato l'omicidio parlando da solo ma faceva anche delle ipotesi su chi avrebbe potuto ucciderlo dici magari per inventarsi la la versione da dare certo può essere secondo gli inquirenti queste frasi sarebbero state dette apposta da Maiorino per sviare le indagini e le intercettazioni ma io dico ma di due teste riescono a fare cioè non due teste cioè di tutte quelle teste di investigare staging esatto staging cioè secondo loro Maiorino parlava da solo confessando l'omicidio ma inserendo nel monologo delle frasi che avrebbero sviato ora ragioniamo su quello che stiamo leggendo no perché io ovviamente vi riporto dagli articoli di giornale quindi stiamo anche leggendo questi stanno pensando io qui è scemo più scemo cioè scemo il criminale è scemi quegli altri perché io veramente loro stanno dicendo che lui quindi sapeva di essere intercettato per questo ha detto le frasi no staging per sviare quindi uno che sa di essere intercettato ovviamente dice io ho ammazzato gli ho dato fuoco l'ho fracassato gli ho dato i calci ovvio oppure era posseduto da un duplice una duplice personalità per cui la personalità uno non sapeva di essere intercettata e diceva la verità poi subentrava la personalità due diceva ci stanno ci stanno intercettando che allora sviava non ha senso senso allora molto più semplicemente al posto che le ha dette per sviare le indagini lui stava facendo questo monologo sempre per stare dalla parte della procura alla quale sinceramente per quanto faccia degli strafalcioni credo nella versione della procura lui ha fatto la sua confessione poi si è immaginato le domande in una ipotetica sede di interrogatorio in cui avrebbe dovuto dare la colpa a qualcuno o immaginarsi uno scenario per togliersi lui di impiccio a quel punto si immagina cosa avrebbe potuto dire tipo eh non vorrei che qualcuno magari avanzassi i soldi alla moglie gente che magari sapeva che usciva presto eh sì 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 effettivamente questa cosa può funzionare può funzionare così così sì ha senso sì si rispondeva da solo una roba del genere ce ne sono altre di frasi che lui avrebbe detto secondo la procura per sviare no quella personalità 2 che si accorge di essere intercettata dice quando va a camminare con il cane al bastone alle volte Alessio mi rompeva le scatole perché gli metteva il furgone di davanti e glielo faceva spostare e lui era uscito per spostarlo Alessio gli avrà detto che rompi le scatole alle 5 della mattina e avranno litigato si è nascosto dietro l'albero e lo ha colpito alle spalle guarda innanzitutto c'è Magliorino top investigatore cioè se risulta innocente io lo assumerei in procura perché lui cioè ci ragiona sulle cose cioè ci vedo che almeno proprio ci ragiona il vampampatore vabbè regà in ogni caso insomma la versione dell'avvocato non ha convinto nessuno e all'udienza di convalida il GIP ha deciso che Magliorino deve restare in carcere e con ogni probabilità è stato lui ovviamente il mio pigiare sul fatto che la procura abbia fatto uscire solo alcune sezioni del monologo e non le altre che invece ha fatto uscire l'avvocato era solo per farvi notare come tante volte è la procura a fare i comunicati stampa che voi vengono ripresi dai giornali e non è che poi i giornalisti come dovrebbero fare contattano l'avvocato difensore chiedono ma lei ha qualcosa da controbattere a questa versione ha delle prove diverse così facciamo no un sunto del tutto no pubblicano soltanto la versione della procura e come vedete tante volte non è completa per poter sopravvivere ed esistere lo stalker ha bisogno della vostra attenzione crea falsi profili per poter diffondere fake news e far credere alla gente che le sue bugie sono l'unica verità lo stalker contatta i vostri amici i vostri parenti e i vostri colleghi di lavoro con toni gentili per far credere di essere colui che li mette in guardia sul vostro conto lo stalker vi spia e vi fa spiare per avere quello che mai ha ottenuto realmente nella propria vita ovvero il controllo ricordate lo stalker si nutre della vostra paura della vostra frustrazione della vostra ira per cui grazie Grazie a tutti